Il bilancio della festa popolare salesiana che si è svolta a Sulmona il 6, il 7 e l'8 settembre. La festa popolare è stata animata dai Barabbas Clown, un'associazione nata da un lavoro di ricerca teatrale iniziato nel 1979 presso il centro salesiano San Domenico Savio di Arese, casa di accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà. Attraverso la figura del clown, ragazzi e giovani hanno scoperto di avere dentro di sé una qualità piuttosto rara ai nostri giorni, quella di donare in misura abbondanti a chi incontrano, quella del sorriso. Oggi sono gli stessi ragazzi di 20 anni fa che conducono l'associazione Barabbas Clown, una risorsa importante per il centro salesiano di Arese. Si occupa direttamente di promuovere in collaborazione con l'equipe educativa del centro tutte le attività teatrali che si svolgono all'interno dello stesso. La giornata di sabato 7 è stata la più intensa di tutte. Nel pomeriggio spazio alla tavola rotonda sulle missioni di alcuni preti salesiani che hanno riportato ai fedeli sulmonesi la propria esperienza. Significativo il racconto di Don Nicola Ciarrapica, per 30 anni missionario in Nigeria, dove ha fondato una casa salesiana e una scuola per i bambini del posto. Attualmente Don Nicola sta prestando la sua opera in Liberia. All'incontro ha preso parte anche il missionario Don Carlo Russo, titolare della casa famiglia Borgo Ragazzi di Don Bosco, e Massimo Giuggioli, direttore della casa famiglia tra i fondatori dei Barabbas Clown. La giornata si è conclusa con la veglia di preghiera voluta da Papa Francesco per scongiurare la guerra in Siria. La giornata si è conclusa con la veglia di preghiera voluta da Papa Francesco per scongiurare la guerra in Siria.